E mentre tra qualche giorno si festeggerà il Ferragosto, si pensa già alla prossima festività cittadina, quella del Santo Patrono, un appuntamento tanto atteso dai fedeli e da tutta la città. La fine di settembre, infatti, rappresenta un momento di grande devozione con la festa di San Michele, ma anche di folclore, dato che i giorni precedenti sono caratterizzati dalla musica e divertimento delle giostre per i più piccoli soprattutto, e dall'odore dei torroni e caramelle, dai suoni e colori delle bancarelle e della fiera di San Michele. Quest'anno si svolgerà a Pian del Lago dal 26 settembre al 2 ottobre. Sono 132 posteggi che verranno assegnati secondo l'apposito bando che verranno suddivisi in base alle aree, cioè 2 per le aziende dedicate ai servizi istituzionali, 10 per la produzione filiera corta alimentare chilometro zero, 2 aree ecoenergie rinnovabili, 3 all'artigianato, 1 per la promozione sport e tempo libero, 2 no profit, 7 obbisti, 20 per l'area food e il resto per l'area libera commerciale. Negli ultimi due casi vengono ulteriormente suddivisi in base alla grandezza del posteggio da assegnare. Per ogni tipologia verrà poi predisposta una gradatoria. Gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 5 settembre alle ore 12 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo suap-pec.comune.caltanissetta.it Sempre tramite posta certificata bisognerà comunicare alla direzione seconda SUAP Sviluppo Economico Servizio Commercio su Repubblica e di Via Duca degli Abruzzi anche l'eventuale scambio consensuale di posteggi assegnati rispetto alla stessa tipologia di aree e dimensione dei posteggi. Non è consentita invece la gestione degli stessi. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e la possibilità di presentare ricorsi verrà poi pubblicata quella definitiva e saranno assegnati posteggi. Due giornate saranno dedicate al ritiro delle autorizzazioni e poi dalle ore 15 del 25 settembre fino alle ore 7 del 26 dovranno svolgersi le operazioni di installazione. Nel caso di eventuali posteggi non occupati si scorrerà la graduatoria e i nuovi assegnatari potranno ritirare l'autorizzazione entro le ore 12 del 26 settembre e installare la struttura entro le 13 dello stesso giorno. Gli operatori dovranno poi completare le operazioni di smontaggio entro le ore 7 del 3 ottobre. Se dovessero arrivare minori richieste rispetto ai posteggi disponibili in una determinata tipologia di area, quelli non assegnati verranno distribuiti nelle aree con richieste superiori al numero disponibile. Grazie. Grazie.